Campogiano ha ospitato con successo la venticinquesima edizione di Spettacolando, la segna di teatro e di strada che ha visto gli artisti presenti proporre spettacoli per ogni età. Lo storico borgo della Garfagnana, da sempre conosciuto per l'attività legata al folklore, da venticinque anni è arricchito anche da questa manifestazione di altissimo livello culturale e popolare, come sottolineato dal direttore artistico, l'istrionico maestro Giorgio Santarini. Spettacolando è sicuramente l'evento più importante dell'estate culturale e artistica di Campogiano e lo è da esattamente venticinque anni. Io ho, scusate, una squadra di ragazzi fortissimi, di ragazzi che sono determinati, quindi anche una volta organizzata la cosa nelle grandi linee, loro sanno portarla avanti con, anzi con allegria. Il festival ha proposto artisti di vario genere in un programma che è stato aperto dalla street band e che ha visto poi lo spettacolo dei Burattini, a seguire spettacoli teatrali e musica, per concludere il tutto con uno spettacolo pirotecnico. Un festival, come sottolineato dal sindaco Pifferi, che aiuta piccoli e grandi a sognare. L'evento culturale che qualifica la nostra stagione estiva a Camporgiano. Da venticinqu'anni ci fa vivere in una favola, ci trasporta in una favola. Come diceva Pablo Neruda, ognuno di noi ha dentro di sé una favola ma non la può raccontare. Servono gli occhi immaginanti di un bambino per raccontarla. Grazie a tutti.